Ciao a tutti! Per pranzo ho mangiato un po' di peperoni ripassati in padella e altrettanto le zucchine ripassate in padella, quindi due contorni. Per quanto riguarda la merenda, un bell'arancio che era dolcissimo, con vicino qualche biscottino che prendo questi qui, l'alfabeto sopra come vedete, da Ikea, che sono buonissimi. Il tutto accompagnato, fantastica tisana, magie d'inverno, che è tipo così cannellosa, non lo so, mela, cannella, proprio perfetta per questa stagione autunnale. Sono tenuta a leggere a pranzo, perché poi dopo per cena abbiamo fatto un piatto fantastico. Abbiamo comprato al supermercato le candele della De Cecco, che sono lunghe tipo 60 cm, che spettacolo, condite con il ragù di salsiccia fatto da mia mamma. Infatti poi dopo, vedete, le candele si spezzano, noi le abbiamo spezzate a tre, perché sennò sono troppo lunghe, immangiabili e ingestibili. E il ragù meraviglioso che bacenavo poco fa, di salsiccia fatto da zero da mia mamma. Che paradiso. Malgrado queste candele le avevamo divise in tre, nel piatto non entravano. Infatti la prossima volta, quando le ricompriamo, le dividiamo in quattro, che sono un po' più gestibili. Quindi un piatto super, super ciccionoso e goturioso. Mamma mia, che buono. Mi viene fame solo a rivederlo, vi giuro. Siamo arrivati al poste cena, e finalmente dopo aver girato 80.000 supermercati qua a Roma, che non la trovavo, sono riuscita a trovare questo nuovo infuso della Bampature. È una novità uscita da qualche settimana, e sapete, quando ci sono in essere novità tè di sani infusi, io mi ci fiondo se le trovo. Ma non l'ho comprata questa qui per l'azione della melatonina, perché io dormo come un giro. Più che altro per il fatto del gusto vaniglia e caramello, che è buonissima. Con questo è veramente tutto. Buon weekend, a lunedì 14.30. Grazie a tutti.